Allora dunque ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati alla cazzarola di armeria e abbiamo praticamente recuperato l'unica arma che c'era perché qua era stato tutto già rimpiazzato, cioè rimpiazzato, eh, come si dice, già tutto, mh, vabbè, avete capito, hanno già preso tutto, hanno già saccheggiato tutto. Che cazzo, che cazzo sei, ma guardate, guarda che cazzo di soggetto, pezzo di merda, pezzo di merda, vieni, crepa, crepa di mazzetto, ti è, oh, quanti siete, regà? Ahia, li mortacci tua, no, no, eh, dai, eh, beccate sto limone in testa. Affanculo, ma no, ma tu da dove vieni? Vedi che, vedi che quando stop e morì, allora la schivata, ma ricordo come si fa, eh. Allora, mentre tu ti fai cazzi i tuoi lio, chi cazzo è? Ah, eh. Cristo. Stai calmo, però. Sì, sì. Ma che poteri ha questo? Non lo so. Diccelo tu. Ah, mo so cazzi i tuoi, frate. Ciao, ciao. Mo te se caricano, eh. Vabbè, almeno siete serviti a qualcosa, dai. Almeno sono serviti a qualcosa. Conseguenze. Allora, dunque, signori, direi che ci ha salvato, quindi ci lasciamo qui. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like o dislike, commentate, condividete, attivate la campanella di notifino, per non perdere gli altri video e supportare il canale. Vi ricordo che saremo live anche su TikTok, per sapere quando saremo live, guardate le nostre storie Instagram e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Scusa, ma non bussate, è sto cazzo che mi piace il cancel. Ah, che bella pisciata. Che bella. Ah, che bella così. Ah, che bella.